Ha riaperto al pubblico un gioiello dell'Aquila, la chiesa di San Silvestro, l'edificio in stile romanico che con il terremoto del 2009 aveva subito danni significativi. La chiesa è una delle più note del capoluogo d'Abruzzo e molto amata dai cittadini. Un giorno di festa e di emozione, San Silvestro è un gioiello che viene restituito non solo all'Aquila, ma alla regione Abruzzo, all'intero paese, a tutti gli amanti dell'arte e del bello, ha detto il sottosegretario per i beni culturali, il pentastellato abruzzese Gianluca Vacca, intervenendo alla cerimonia di riapertura della chiesa. La riapertura è un'ulteriore prova del grande lavoro che è stato fatto in questi anni, ha detto Vacca, che è anche commissario per la ricostruzione dei beni culturali. Nel 2009 la chiesa aveva subito danni notevoli e dalle prime settimane dopo il terremoto i vigili del fuoco, coordinati dal Ministero, avevano eseguito la messa in sicurezza dell'edificio. Il restauro ha riguardato il ripristino di una solidità e staticità globale, il campanile e le murature perimetrali, la facciata, le archeggiature, i pilasti circolari, anche le absidi e la loro copertura. Nel rimuovere gli intonaci degli anni 70 e 80 sono rinvenuti degli affreschi sulle pareti laterali. Uno dei ritrovamenti più antichi e significativi è stato fatto nel locale Sacrestia. Si tratta di affreschi presumibilmente duecenteschi, fatto che fa ipotizzare un primo impianto della chiesa in questa zona. All'interno di San Silvestro si trova anche la cappella della famiglia Branconio, molto danneggiata dopo il sisma. La facciata di San Silvestro, poi, ha richiesto notevole impegno nel restauro, sia per il miglioramento strutturale, sia per il recupero degli apparati decorativi e scultori, del portare ligno cinquecentesco e del grande rosone. Il finanziamento complessivo del lotto dei lavori è stato di 6 milioni e 700 mila euro, ma i costi finali sono inferiori perché vanno tolte le spese tecniche. Per l'aggiudicazione dell'appalto c'è stata un'associazione temporanea di imprese, unati tra la Gaspari Gabriele SRL e, per la parte dei restauri, il Consorzio Officina L'Aquila. Le specifiche tecniche riguardano sia la sicurezza antisismica del complesso, che aveva subito a seguito del sisma rilevanti danni, soprattutto in facciata, dove c'era un incipiente ribaltamento, e poi sul campanile, nonché nella parte absidale. Quindi l'intervento tecnico ha riguardato il miglioramento strutturale antisismico e poi consistenti sono stati gli interventi anche sul preziosissimo apparato decorativo di questa chiesa. I monumenti storici, purtroppo, sono particolarmente sensibili al sisma. Questo però non significa che non possono essere messi in sicurezza e fruiti in sicurezza, attraverso l'utilizzo di tecnologie appropriate, che in questo caso sono state pienamente messe in atto.